Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, si è detto impegnato a verificare la possibilità di convocare un vertice a 5 per affrontare a livello appropriato lo status dell'isola di Cipro. Al termine di una cena informale a Berlino con il presidente cipriota Anastasiades e il leader turco-cipriota Akinci, Guterres ha sottolineato come le parti si siano dette impegnate a rispettare la dichiarazione congiunta del 2014 e i sei punti dell'accordo quadro presentato nel 2017. Una circostanza che per il segretario generale rende praticabile la via della ricerca di un'intesa definitiva. Il presidente cipriota Nikos Anastasiades, pur non nascondendo le difficoltà, ha parlato di passo in avanti fatto a Berlino, grazie proprio al contributo del segretario generale Guterres. Inutile dire che per arrivare alla ripresa del dialogo, oltre che a puntare ad un'intesa sui termini di riferimento, la Turchia deve mettere fine alle attività illegali, alle spese della Repubblica di Cipro, ai progetti di colonie sul Famagosta e alle minacce per fatti avvenuti nella zona Cuscinetto. Positivo il commento anche del leader turco-cipriota Akinci, il quale ha tuttavia riconosciuto che la ripresa del confronto in se stessa non è sufficiente a sviluppare le attività necessarie al processo globale. Grazie.